Rilanciando ad esempio i temi politici del Partito Socialista che finalmente dopo 5 anni è ritornato in Parlamento, quindi dei temi nazionali quali l'istituzione dell'articolo 18 bis per la tutela dei lavoratori che hanno a che fare con contratti atipici, oppure il voto ai sedicenni partendo dalle circoscrizioni delle grandi città per dargli anche più responsabilità e poi altri temi quali ad esempio la tassa per il diritto allo studio universitario che in Campania ha subito un aumento del 120% ed è passata sotto silenzio, pungoleremo anche le associazioni universitarie su questo piuttosto che sul superamento delle province e anche l'accorpamento dei piccoli comuni per un risparmio maggiore dei servizi. Noi come giovani socialisti dal tema di questa iniziativa, il tema di questa iniziativa lo dà dimostrare abbiamo l'intenzione di sfidare la politica soprattutto dai risultati di questo voto che hanno dimostrato la perdita di credibilità da parte della politica nei confronti di un'antipolitica, di un populismo che sta ovviamente entrando nelle case della gente, noi per questo cerchiamo di sfidare la politica soprattutto nelle proposte concrete che noi giovani socialisti pensiamo siano indispensabili per fuoriuscire dalla crisi economica, sociale e politica nella quale questo paese da qualche tempo ormai versa. Prima di tutto sostegno alle imprese che assumono nuovi giovani all'interno delle proprie strutture attraverso una defiscalizzazione. Ovviamente noi abbiamo proposto l'introduzione di un articolo 18 bis a sostegno soprattutto di quella massa di lavoratori precari atipici che stanno ogni giorno nascosti dentro le stanze degli uffici e che non hanno alcun diritto per non pensare poi ovviamente al sostegno all'istruzione, all'università come fondamenti del progresso di una società e come non pensare alla ristrutturazione del sistema politico istituzionale che Grillo tenta di distruggere ma che noi pensiamo sia ancora un punto fondamentale per continuare ad essere un paese democratico.